Ben ritrovati e ben ritrovati nello studio podcast Sardegna Gol e anche oggi in compagnia di Michele De Montis. Ciao Michele. Ciao a tutti. Ed il nostro ospite è Filippo Petrucci del Partito Democratico candidato al Consiglio Comunale di Cagliari. Ciao Filippo. Ciao a voi e a chi ci sta guardando. Ben ritrovati. Filippo stiamo registrando in questa campagna elettorale diciamo un po' poco a pille. Abbiamo candidati che si lanciano nelle solite passillare al mercato di San Benedetto, presentazioni pubbliche di candidati senza però entrare nel merito dei programmi. Insomma temi che stanno un po' stancando gli elettori. Come si può in questo contesto riproporre diciamo una maggiore partecipazione, un maggiore interesse dei cittadini verso questa politica locale che al momento sta avendo una campagna elettorale con pochi fuochi d'artificio. Sì è vero, è vero. Una campagna rispetto soprattutto alle prime che abbiamo vissuto come centrosinistra insieme, le prime diciamo di massimo. Soprattutto alla prima non c'è paragone. È una campagna un po' lenta però tu poni una domanda fondamentalmente esistenziale nel senso come fare avvicinare le persone alla politica. Noi abbiamo, stiamo vivendo un periodo storico ormai da un po' di tempo in cui è estremamente difficile far capire che in realtà la politica è essenziale. Fare politica, trattare della cosa pubblica è molto importante e il primo obiettivo ovviamente potrebbe essere quello già a prescindere dalle campagne elettorali di far vivere maggiormente i partiti che non sono il male ma sono un elemento importante della società e quindi fare in modo che ci si avvicini maggiormente all'attività di ogni giorno. L'associazionismo, i partiti, i gruppi anche informali sono in realtà essenziali perché tramite queste realtà che poi si formano o si dovrebbero formare delle esigenze collettive che poi andrebbero trasmesse e diventare dei programmi e poi delle attività pratiche. Ad oggi è vero, vediamo poche presentazioni, vediamo un basso coinvolgimento pubblico probabilmente da parte anche da chi è in continuità con la precedente amministrazione perché non vogliono far ricordare cosa hanno fatto. Noi però come centrosinistra effettivamente potremmo fare di più ma non è un elemento scontato né facile. Io vi lancio una domanda. Sicuramente i partiti, anche in momenti civici, dovrebbero fare una maggiore selezione dei candidati. Il premesso è che presentare una lista sta sempre più diventando complicato perché poi alla fine c'è sia un problema di partecipazione democratica attiva e anche passiva perché poi alla fine, andiamoci chiaro, trovare candidati che vogliono lanciarsi in questa competizione elettorale diventa sempre più difficile. Però manca sempre questa forma di selezione anche perché andiamo a vedere certe dichiarazioni dei candidati al Consiglio Comunale. Ci sono degli aspirati consiglieri o consiglieri che non hanno ben capito le competenze della macchina amministrativa locale. Allora condivido però torno purtroppo a segnalare che viviamo in un'epoca in cui ci sono molte meno risorse. È vero che c'è stato un periodo in cui la politica forse ha approfittato esageratamente delle risorse che avevano. Abbiamo vissuto tutti la storia di Tangentopoli, la Bassanini che divide drasticamente ciò che aspetta la politica e ciò che aspetta i tecnici. Però vediamo anche le conseguenze negative. Io sono anche segretario di un circolo del PD, il circolo 1 Emilio Lussu, quindi al centro di Cagliari. Noi non abbiamo una sede. Quindi io ho dovuto prendere in affitto temporaneo una sede collettiva che va benissimo perché va benissimo avere una sede collettiva anche con altre associazioni o anche altri movimenti. È bello perché in realtà ti offre l'opportunità di confrontarti, però di fatto non avendo una sede posso fare molta meno attività. Un tempo i partiti avevano sedi, avevano fondi e non è una bestimia a dirlo, quindi tu potevi far crescere al tuo interno anche una classe politica, formarla un po' di più e prepararla all'attività politica. Adesso è molto più difficile. Ecco, da questo punto di vista, Filippo, effettivamente i partiti e i giornalogi dispongono di molte meno risorse. In passato avevano squadre calcistiche, sportive, circoli culturali, ricreativi, organizzavano festival culturali. Ma in generale abbiamo un po' come l'impressione che sia difficile a giorno d'oggi aggregare le persone in qualsiasi ambito, non solo quello politico e quello culturale, sportivo e ricreativo. Secondo te da cosa dipende questo e cosa si può fare per riportare le persone a riunirsi all'interno del medesimo luogo? Purtroppo è vero. Cosa si può fare? Intanto si può provare a dare spazio, cioè offrire spazi, spazi fisici. In questo caso il comune può provare ad esempio a dare i propri spazi, sia per quanto riguarda lo sport, sia per quanto riguarda le associazioni, sia per quanto riguarda appunto, come detto, le associazioni formali, che ovviamente hanno un maggiore riconoscimento, sia anche i gruppi informali. Dopodiché a provare a seguire elementi di informazione. Ci sono enti o associazioni che fanno questo, bisogna avere un pochettino più di fiducia, bisogna dare tempo perché sono processi medio-lunghi e bisogna pensare che appunto un tempo i partiti le sezioni, nelle sezioni non ci si veniva solamente per parlare di massimi sistemi, si parlava di politica alta, di politica bassa, poi semplicemente si giocava anche a carte magari. Ecco, pensare di riuscire a ricreare questo ci vuole tempo. Non lo fanno i partiti, diamolo alle associazioni, diamo spazio alle associazioni. Cito, se posso... Io ricordo un regolamento... Avevo fatto un regolamento all'epoca proprio per tentare di dare in concessione di spazi, incomodato ad uso gratuito. C'è una grande difficoltà ad applicarlo perché poi ci sono le regole per cui adesso i beni pubblici devono essere sempre dati in cambio di un corrispettivo, quindi bisogna trovare il metodo, però bisogna applicarsi, cioè bisogna tentare di veramente dare una soluzione. Perché? Perché uno spazio chiuso non serve a nessuno. Su uno spazio invece viene aperto e ci possono andare delle persone a fare qualcosa. Magari piano piano si ricrea la voglia anche di stare assieme. Normalmente, come diceva prima, c'erano le squadre di calcio, c'era tutto. Anche una... Anche un... Perfino faccio un gruppo di persone che si ritrova a fare ballo per anziani. Ha una funzione sociale enorme. Ha una funzione sociale enorme perché fai fare attività degli anziani, si incontrano, stanno assieme. Quindi bisogna veramente... Adesso, se pensa ad alcune associazioni di anziani, si incontrano in chiesa. È uno dei pochi... dei pochi... dei pochi mondi che fortunatamente, avendo mantenuto sedi, appunto, sono gli ambienti che si rifanno, magari, appunto, alla chiesa. Fortunatamente, avendo spazi, possono usare. E li usano in tanti. Va benissimo, ben venga. Però, visto che anche lo Stato e visto che anche il Comune ha spazi, proviamo a usarli. Proviamo a usarli. E poi, per competenza, faccio un attimo una parentesi su questi bandi. Molto spesso andiamo a vedere. Il Comune chiede delle risorse abbastanza importanti, onerose per le piccole organizzazioni, ma anche, in generale, per il mondo del volontariato. Penso anche il bando per il Centro Servizi del Parco di Tuvigedo, che ha sempre presentato dalle condizioni improponibili. Improponibili, certo, certo. Invece, facendo un attimo proprio un passo indietro sulla visione e sulla gestione della città di Cagliari da giugno in poi, il prossimo ottobre scadrà l'attuale bando per la raccolta dei rifiuti. Ecco, secondo te, Filippo, in questa nuova coalizione che andrà a governare la città, su quali punti deve agire per evitare che si ripropongano i servizi che si sono, diciamo, visti, rilevati nel corso degli ultimi anni di amministrazione comunale. Allora, fondamentalmente qualsiasi processo si mette in atto in città, in qualsiasi ambito, bisogna seguirlo. Personalmente la principale critica che io mi sento di fare alla presente amministrazione, cioè quella del sindaco Truzzo, è stato che i processi non sono stati seguiti. Se tu non segui un processo, automaticamente va per inerzia. Cosa si potrebbe fare per la spazzatura? Prima di tutto, un elemento a monte è scovare gli evasori, perché chi paga l'attari vuole la città pulita tendenzialmente e chi non paga l'attari che butta la spazzatura per strada, perché non pagandola non ha molto spesso neanche i mastelli, banalmente. Quindi, prima di tutto, scovare gli evasori. Punto secondo, controllare chi viene da fuori a buttare la spazzatura. Allora, noi abbiamo avuto per anni alcuni comuni dell'Internet che facevano tasse di differenziata altissima, quando è iniziata la differenziata seriamente a Cagliari, porta a porta, è sceso il livello di differenziata in quei comuni. Perché? Perché si è scoperto che venivano semplicemente a buttare la spazzatura da noi. Faccevano il cosiddetto morto, il saccone nero e poi lo buttavano nei cassonetti nostri. Poi ovviamente bisognava mettere dei correttivi, intanto bisognava mettere lo spazzamento, perché noi avevamo inseriti all'inizio, non noi, chi aveva fatto il bando? Sì, noi come amministrazione, quindi mi prendo una parte di responsabilità perché abbiamo amministrato noi. Avevamo inserito, ad esempio, la pulizia delle strade che non è mai stata fatta, perché se vi ricordate i cartelli, possiamo trovare dei mezzi alternativi, cioè semplicemente sparare dell'acqua e poi soprattutto però aumentare lo spazzamento, perché il problema della sporcizia è oggettivo. Beh, Cagliari oggi è una città più sporca ed è una questione incontrovertibile. Sì, è molto più sporca. Quindi aumentare lo spazzamento, pensare anche a alternative per zone particolarmente popolose, ma se vi accorgete noi abbiamo un problema di sporcizia randomizzata e poi abbiamo dei problemi grossi di abbandono dei rifiuti che inquiscono dei cumuli. Quindi bisogna intervenire, bisogna avere il coraggio di intervenire in questi due ambiti, anche con, appunto, andando a cercare gli evasori fondamentalmente e poi tentare di mettere i correttivi, aumentare il spazzamento, pensare anche di inserire eventualmente delle telecamere, anche se mi sembra non siano servite, perché l'ossessione delle telecamere che ha avuto sempre la destra non mi sembra abbia portato nulla in nessun ambito. Purtroppo, perché io da cittadino se avesse funzionato sarei stato contento, ma non ha funzionato per niente. Non so neanche cosa hanno fatto veramente. È una questione che sta molto a cuore ai pubblici esercenti. La cosiddetta corsa al mastello dei esercenti o la corriera ecologica verrà riproposta in futuro in caso di vittoria della coalizione di campo largo, secondo te, oppure no? Questo è un tema. Fondamentalmente, secondo me, bisognerebbe, e anche qui mi fa un po' sorridere, perché in teoria le attività produttive un tempo si dicevano più vicine alla destra, ma non mi sembra siano state ascoltate minimamente. È ovvio che se tu vai a proporre delle alternative per la gestione dei rifiuti e le attività produttive, devi parlarne con loro. Devi capire quali sono i tempi, come funzionano. Io mi ricordo che quando è stata proposta anche la corriera ecologica, che poteva essere corretta, una delle prime osservazioni da parte dei gestori di locale è stata sì, ma se sono da solo nel locale, lo dovrei chiudere, portare il mastello, aspettare che viene scaricato e tornare e riaprire il locale, che è una situazione abbastanza... È un grande disagio, insomma. Sì, decisamente. Senza contare poi, chiaramente, l'introduzione del servizio, insomma, anche queste sono implicazioni abbastanza critiche. Invece, sulla promozione del patrimonio territoriale, noi abbiamo visto una città negli ultimi anni, dove, diciamo, grandi siti storici, come la necropoli di Tuvigeddu, addirittura è stata esclusa in una pubblicazione turistica del comune di Cagliari. Dall'app del comune di Cagliari, sui percorsi archeologici, mancava la necropoli di Tuvigeddu. Oppure, insomma, la perenne chiusura, l'infettinato romano... Avilei Tigelio, qua vicino... Avilei Tigelio, fino ad arrivare poi alle, diciamo, altre chiusure un po' più recenti. Penso, per esempio, al Teatro Cirquito di Castello, all'ex artistico di Piazza Dettori, nonostante poi costruire qui investimenti messi poi per riaprire questi locali. Ecco, senza poi contare tutta un'altra, diciamo, un'altra galassia di appartamenti, immobili tenuti ancora chiusi. Ecco, c'è una nuova strategia, un occhio diverso, che proporrete in caso di vittoria nella prossima consigliatura? Allora, io credo che la cosa principale sia, quando si parla di questi beni, che bisogna usarli. Che usare non è una bestemmia. bisogna aprirli, rendere fruibili, bisogna percepirli come elementi della città. Poi avete parlato di Tuvigedo, noi avevamo fatto, mi avviso, un ottimo lavoro su Tuvigedo, perché è uno spazio che noi, dico noi, perché abbiamo prima la stessa età, non abbiamo mai vissuto da ragazzini, invece, finalmente era fruibile. Però se poi, appunto, non lo racconti, non dici che cos'è, non ci porti le scuole, non fai diventare Tuvigedo un elemento che deve essere naturale per tutti i cagliaritani, automaticamente lo perdi. Ugualmente sull'anfiteatro c'è stata una guerra ideologica, direi quasi, perché la destra per anni ha detto, ah, avete distrutto un luogo dove si facevano spettacoli. Le cose cambiano, i tempi cambiano. In realtà io mi ricordo all'anfiteatro, cioè andavo da ragazzino, ben prima che costruissero la legnaia e si facevano spettacoli. Tra l'altro grandissimi spettacoli, grandi produzioni. Sì, sì, ma prima addirittura che venisse costruita la famosa legnaia, quindi è sempre stato usato. Si può ritornare a usarlo? Sì, si può ritornare a usarlo. Intanto bisogna tenere puliti, che anche lì bisogna banalmente andare a tagliare l'erba. La via di Tigeglio, credo che ci sia un problema anche lì di assegnazione, perché per anni è stata assegnata e poi però è scomparsa. La città non parla con se stessa, perché se voi avete citato due elementi, la via di Tigeglio e l'anfiteatro, che in realtà sono fondamentalmente collegati. In mezzo c'è l'ortobotanico. Vi ricordate quante volte si è detto che dovevamo fare un accordo con l'università affinché si potesse passare dall'ortobotanico fondamentalmente all'anfiteatro con un unico biglietto? Proviamo a immaginarlo. Proviamo a rompere il muro che divide queste due strutture, che è lo stesso muro che divide fondamentalmente l'università, che molto spesso sembra un elemento esterno e staccato, rispetto all'amministrazione comunale di Cagliari. Poi è vero, ribadisco, vanno usati, vanno fatti bandi. La cosa per me è sconvolgente, lo dico all'epoca c'era la Mono e quindi ero rimasto veramente stupito, era che a Tuvigeddu, che è un'area enorme, enorme, che si potrebbe usare perché se voi pensate a tutta la parte bassa è completamente abbandonata, si potrebbe comunque usare in tanti modi, non per costruire, però ci potresti fare veramente tante cose, non c'è un bar. Allora, se tu vai a Tuvigeddu, a Cagliari fa caldo e c'è sole e arrivi alla fine, proprio al centro, dove c'è il centro che intira, però è sempre stato chiuso. È il centro servizio di cui operavamo prima, era previsto l'apertura di un bar, ma le condizioni sono talmente onerose che nessuno può permettersi di aprirlo. Ma è se per quello anche le condizioni sono super onerose anche per la gestione di quello spazio del giardino sotto le mura. Allora, fortunatamente rimane ben gestito, però anche lì, magari quando uno dice questa cosa, ah perché volete mettere bar ovunque? No, non è che voglio mettere bar ovunque, il problema è che se un luogo turistico, come Tuvigeddu, che è enorme e che è sotto al sole, dove non c'è neanche un posto dove alla fine della visita uno possa prendersi una bibita, è sbagliato, non c'è nulla altro da dire sbagliato. Il giardino sotto le mura, con quello spazio enorme dove ci potresti fare appunto, sia un posto dove bere una cosa, sia dove fare eventualmente esposizioni, però anche lì è stato un contratto con, è stato fatto un bando con moltissimi problemi, più volte se vi ricordate, è sbagliato, perché alla fine poi non c'è nulla, non c'è nulla più. Quindi in realtà gli spazi vanno usati e vanno anche comunicati e vanno vissuti maggiormente. Io sono convinto che ad esempio Tuvigeddu, potrebbe essere raccontato molto meglio, potrebbe veramente entrare dentro l'immagine cagliaritana, perché è assurdo che non ci sia. Beh, tra l'altro io sono andato proprio recentemente con degli amici croati, una cosa che mi ha proprio lasciato perplesso è la posizione delle transenne nella passerella che poi porta a uno dei punti più importanti, più rappresentativi dalla necropoli. Adesso io dico, ma ok, non si paga il biglietto d'ingresso, però è un modo di gestire un patrimonio. Anche perché ricordiamolo, è gestito dal Comune di Cagliari non in quanto parco archeologico, ma in quanto parco del verde pubblico, che ci dà anche la misura. Certo, certo. Parlavi prima rispetto all'esprenza amministrativa che si è adesso chiusa, limita della giunta Truzzo nel non aver seguito i processi che ha messo in atto. È evidente che si sono verificati tutta una serie anche di cortocircuiti tra la parte politica e quella amministrativa. Questo è il rettaggio della Bassanini. In caso di vittoria vostra, cosa pensi dovrebbe essere fatto per prevenire il verificarsi nuovamente di queste situazioni? Perché comunque qualsiasi amministrazioni di destra e di sinistra sempre li va a abbattere, a ribattere come punto. A volte pretestuosamente, a volte invece ci sono delle ragioni fondate. Guarda, io ti rispondo con un esempio positivo, che però noi per affrontare ci siamo beccati due anni e passa più o meno di insulti pubblici, cioè il Poetto. Il Poetto è stato... La questione dell'amianto, dici? No, no, la questione del lungomare e anche dei baretti. Anche dell'amianto. Se invece mettiamo tutto, allora è stato segnalato l'amianto, va bene, siamo intervenuti. Dopo che intervieni uno, due, se non vedo tre volte, siamo intervenuti, non si poteva continuare ad andare dietro ogni osservazione, soprattutto perché poi l'ARPAS, se non sbaglio, ci aveva detto che andava tutto bene. Però è stato chiuso, è stato fatto un intervento rapidissimo in quel caso. Abbiamo fatto il pool, che ha dato l'opportunità di avere dei baretti nuovi, belli, dignitosi, con la loro particolarità, perché ogni baretti è differente, però rispetto al passato decisamente... Ci sono meno... C'è meno eterogenità, ecco, è più, diciamo... Sì, diciamo che prima, senza fare i nomi di baretti, ci sono baretti in cui noi ci siamo goduti grandi serati, però erano veramente una cozzaglia di... Cioè, ogni anno si aggiungeva un pezzo, diciamo. Adesso si possono fare le stesse cose, però con ordine e soprattutto in spiaggia c'è spazio per tutti. Dare delle regole non vuol dire bloccare le persone, dare delle regole vuol dire permettere che tutti facciano più o meno tutto, però rispettano anche gli altri. Ugualmente, per fare il lungomare, ad esempio, per farlo affinché fosse accessibile a tutti, la dirigenza, insieme all'assessora, che era Luisa Ann Amaras, andava a fare i sopralluoghi con delle persone, ad esempio, che avevano limitata mobilità nei vari sensi, in maniera tale che nel momento in cui fai una passerella o un passaggio, lo sai che veramente è fatta per delle persone... Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire seguire i processi, vuol dire che ti impegni su una tempistica, la segui dall'inizio alla fine, ti prendi le critiche, perché sul momento chi fa è sempre sottoposta a critica, però l'effetto finale è positivo. Ti potrei citare esempi negativi che abbiamo fatto anche noi, perché ce ne sono parecchi purtroppo. Però comunque, per me la principale differenza è che è vero che i dirigenti hanno un potere rispetto al lontano passato a Ore Bassanini, che è enorme, però anche i dirigenti devono rispettare determinate... Se tu quando voti gli indirizzi iniziali gli dai dei punti di caduta che devono rispettare, poi sono comunque legati a questo. È difficile? Sì, però chi fa il sindaco e chi è chiamato a amministrare deve sapere che non è lo semplice. E aggiungo che l'ex sindaco, essendo anche un dipendente comunale, penso che avesse abbastanza contezza di che cosa voglia dire un'amministrazione oggi. Si dice spesso che è la classe politica che dovrebbe essere diciamo più competente, più capace rispetto alla classe, ma questo è un'altra domanda del riguardo, visto che è una di pubblica amministrazione e naturalmente tutte le amministrazioni comunali si lamentano per la carenza di organici, che è un dato vero e non possiamo assolutamente negare. Questo dato si arriva anche grazie al differente trattamento economico che ad esempio l'amministrazione regionale ha per i propri collaboratori rispetto a quelli comunali. Pensi che si possa risolvere questo problema in modo che comunque il dipendente comunale non sia più un figlio di un dio minore rispetto a un dipendente regionale? O peggio ancora creare lo spopolamento di vari enti locali. Gli uffici vuoti. Questo è uno degli elementi auspicabili, tra l'altro una delle proposte fatte da centro-sinistra, quindi credo che potrebbe essere una chiave per fidelizzare maggiormente chi lavora per un comune a rimanere in quel comune, perché c'è poco da fare, l'aspetto economico conta. Dopodiché secondo me è un elemento anche importante, e io torno alla prima amministrazione che è stato veramente un esempio di virtuosismo. La macchina cammina se percepisce anche che c'è veramente l'attività dell'assessore che ci crede, i consiglieri che ci credono, lo stimolo, il tentare di costruire qualcosa. Quando tu incominci a avere la percezione che ci sia una costruzione positiva, anche tu sei più contento di far parte di quella macchina. Dopodiché se invece capisci che stai facendo male amministrazione, che non c'è dell'interesse, te ne vai. Questo non vuol dire che la parte economica non conti, conta moltissimo, perché ovviamente avendo la sicurezza economica uno rimane più volentieri. Filippo, alcuni candidati si sono espressi contro le piste ciclabili in città, addirittura arrivando a definirle illegali. Ecco, secondo te, ha senso puntare sulla mobilità sostenibile in una città come quella di Cagliari, dove una recente ricerca di Unica ha detto che ci sono circa 75 veicoli su 100 abitanti? È una città che veramente si vuole aprire a questa sostenibilità oppure è un qualcosa che non vedremo mai? Quali sono anche, soprattutto, scusami, dei interventi anche non troppo onerosi che dovrebbe un attimo implementare, mettere a regime, a sistema, la nuova coalizione governo della città? Secondo me, in realtà, Cagliari è vivibilissima anche in autobus a piedi. Io vivo in centro, mi muovo quasi solo a piedi in autobus. Uso anche la macchina, perché la uso in autobus, però mi muovo quasi solo a piedi in autobus. Vado al mare molto spesso anche in autobus, perché d'estate con il 3P o con altri mezzi c'è un continuo passaggio anche dal centro storico verso il mare. Quindi è fattibile, non è vero che è impossibile, è fattibile. È un problema culturale, bisogna capire che si può arrivare in centro e muoversi in centro anche con i mezzi. Bisogna probabilmente aumentare anche i taxi, ma questo devo dire che forse hanno aumentato le licenze con un ultimo passaggio. Quindi è positivo, perché anche i taxi sono dei mezzi pubblici. È ovvio che non è immediato, è ovvio che sono sistemi migliorabili, però abbiamo un buon servizio di autobus. La contestazione delle piste ciclabie la trovo un pochettino limitante. È vero che le piste non sono usate quanto potrebbero essere usate, però non so quanto di culturale ci sia nel non uso della pista ciclabile. Togano parcheggi, creano problemi all'attività produttiva. Veramente non lo so se tolgano veramente parcheggi. E tra l'altro pensare a come… Cagliari è cambiata moltissimo nel corso del tempo. È un cambiamento fisiologico e naturale. Io ho visto foto degli anni 70, credo, dove c'erano macchine parcheggiate in castello davanti alla chiesa di Santo Seppau. Cioè, erano parcheggiate ovunque. Io non so se fosse molto bello vivere così, se poter parcheggiare anche sul sagrato di una chiesa automaticamente ti renda più bello e più facile vivere così. Gli spazi sono per gli esseri umani, non solo per le macchine. Moltissime macchine entrano da fuori in città. Alla bisogna provare a pensare che, ad esempio, la metropolità di superficie, che è bloccata credo da più di due anni, perché i lavori stanno proseguendo con una lentezza sconvolgente, potrebbe portare molta più gente in città senza tutte queste macchine. Bisogna cominciare a pensare che molto spesso… Cioè, è un po' assurdo. Noi, quando siamo ragazzini, usiamo costantemente gli autobus per andare a scuola. O andavamo a piedi, o qualcuno in motorino, oppure con l'autobus. Siccome non tutti facciamo lavori per cui dobbiamo spostarci costantemente, perché non usare l'autobus? Perché non camminano un pochettino più a piedi? È ovvio che non tutti lo possono fare. Però non è impossibile. È più un… Un retaggio culturale. A mio avviso, in certi casi, sì. E Filippo, vorrei domandarti, tu naturalmente, oltre che una persona impegnata in politica, sia anche un intellettuale attivo in ambito universitario, di studi, di ricerche, con un occhio anche alla dimensione internazionale. Vorrei domandarti, non trovi che forse l'accorpamento delle elezioni comunali con quelli europei, da un certo punto di vista, privi entrambe le consultazioni del loro significato, anche in termini di dibattito democratico, confronto. Allora, in realtà, potrebbe essere, se la usiamo, una cosa positiva. Perché? Perché tendenzialmente, purtroppo, purtroppo, le elezioni europee hanno perso di appeal negli ultimi anni. Quindi, in realtà, in teoria, se fosse una campagna un pochettino più viva, sarebbe meglio. Se pensiamo che, normalmente, le amministrative sono le elezioni in cui, molto spesso, le persone vanno più a votare perché vai a votare il tuo nipote, il tuo cugino, persone che senti molto più vicine. Quindi, poteva essere una maniera, in realtà, per aumentare la partecipazione. E anche per far capire quanto l'Europa sia essenziale. Noi andiamo a elezioni. Come sempre, purtroppo, abbiamo ancora un'unica circoscrizione europea con la Sicilia. Questa cosa, ovviamente, ci penalizza. Costantemente, sì, non ci aiuta per niente. Abbiamo un rapporto 4-1 come elettorato, quindi. Quindi, però, sì, effettivamente, forse la stiamo usando male. Però, in realtà, poteva essere per una volta l'occasione per far capire, per, ad esempio, quando fai una presentazione dei candidati, parlare sia dei candidati locali sia dell'Europa. Io lo spero. Nel mio picco, non lo dico adesso, però stiamo provando a fare incontri anche di questo tipo, a preparare anche di Europa. Perché senza Europa, non siamo coscienti, forse, di questo, però non si va molto avanti. Parliamo un attimo di turismo. Cagliari, negli anni, praticamente, ha deciso di puntare, sembrerebbe, il proprio destino sul centro storico di Cagliari. Quindi, insomma, Stampace, Marina, Villanova, eccetera. È un processo, però, se andiamo a vedere, che ha portato poi a spegnere la luce in tantissimi altri quartieri della città, insomma. Secondo te, tutto questo processo che ha portato alla pedonizzazione attuale è stato mal calibrato oppure no? Allora, diciamo che forse in alcuni aspetti potrebbe apparire così, perché effettivamente c'è una, soprattutto in certi orari, in certi giorni, c'è una superpopolazione del centro storico, cioè c'è un carico antropico enorme sul centro storico in certi momenti. L'over turismo, come si dice. Sì, decisamente. Ed è vero, è un elemento su cui dobbiamo fermarci a ragionare. È un elemento che è anche molto difficile da gestire a livello comunale, perché puoi pensare di inserire un limite al numero di BNB nel centro storico, puoi pensare di fare azioni, ma non è semplice fare questo tipo di azioni, soprattutto non si sa, non sempre le puoi fare a livello comunale, quindi questo è il problema. Io continuo sempre a provare a vedere l'aspetto positivo, perché è vero, quello che dici tu, in certi momenti il centro storico è troppo carico e bisogna ridistribuire questi aspetti. In realtà questa ridistribuzione, a mio avviso, avverrà anche per via naturale lentamente, perché i processi sono lenti. Quando ero ragazzino io, quando avevo 15 anni, nessuno andava in marina di notte, nessuno. Adesso è impensabile, invece, anzi, adesso che la marina sta avendo un momento, diciamo, anche di fortuna. No, sì, no, adesso per la sede di nuovo leggemente in crisi, quindi di nuovo, però in realtà comunque ha visto anni magnifici e speriamo di continuare a vivere. Però quando avevo 15 anni io, la marina era una zona strutturale da evitare. A mio avviso, ad esempio, le nuove zone di Cagliari, come Susicu, Susicu è una zona di sfogo naturale, ed effettivamente tutta la zona del porto. Adesso, piano piano, anche con le attività dell'autorità portuale, i cambiamenti nel porto, vuol dire che le persone si dislocheranno in varie zone. Oppure tornerà anche maggiormente al Poetto. Il centro storico è stato super popolato, anche perché c'è stato un periodo per i lavori che si sono susseguiti e per varie ragioni in cui il Poetto era meno fruibile. Adesso è tornato ad essere più fruibile, quindi le persone stanno ritornando anche lì. Andate sabato mattina o domenica mattina a farvi una passeggia dal Poetto, anche d'inverno, e vedrete quanta gente c'è. È quasi difficile camminare. Quindi in realtà è diverso. È ovvio che è auspicabile che lentamente un po' il caricantropico cari, ma non è una cosa immediata ed è una cosa su cui si deve lavorare a lungo termine, magari coinvolgendo anche i protagonisti di questa azione. Quindi bisogna contemperare gli interessi dei residenti e delle attività produttive, perché se si va allo scontro, alla fine non si risolve nulla, ma bisogna tentare di capire appunto l'obiettivo finale di entrambi, affinché il centro storico sia vissuto e vivibile. Quindi sinergia per evitare di continuare a perdere occasioni di rilancio e per il nostro territorio. Filippo, il territorio di Cagliari presenta una straordinaria ricchezza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, del quale non sempre si accontezza. Penso ad aree come la laguna di Santa Gila, penso alla stessa Cana Mosca, che rappresentano un unicum nel panorama delle città europee. Eppure molto poco è stato fatto, al di là di qualche dichiarazione di intenti. E in caso di vittoria della vostra parte politica, avete qualche idea su come porre rimedio a questa situazione? Allora, incomincio la Santa Gila, perché paradossalmente è quella che conosco meno. Dico paradossalmente perché è un'area enorme, bellissima, che vediamo costantemente quando atterriamo nella nostra città, però appunto è molto meno vivibile fondamentalmente. Cosa si può fare? Intanto si può far leva su un elemento che è quello della città metropolitana, che dovrebbe veramente riprendere potere, riprendere spazio. Perché? Perché noi abbiamo assolutamente bisogno di coordinarci con i comuni dell'Interland, anche con quelli che già hanno fatto lavori su, ad esempio, Santa Gila, che rispetto al passato è molto più pulita, non ci sono più gli scarichi, quindi già si è arrivato a fare la propria, bisogna viverla, bisogna poter andare a Santa Gila, bisogna banalmente anche andare a fare, a vedere come sono i lavori a Santa Gila. Ci sono dei progetti che purtroppo sono stati finanziati e abbandonati nel tempo, penso a tutta una serie di spazi che erano stati destinati a puntatività e non sono stati sfruttati, bisogna ripartire da lì. E bisogna farlo perché appunto è assurdo che Cagliari con certe sue zone abbia un rapporto quasi di disinteresse, quasi di non... Prima di parlare di Calamosco torno rapidamente a un'azione fatta da Deleu, uno dei primi anni, quando fece abbattere la divisione fra il porto e la città. Quello per me è un elemento simbolico importante. Perché? Perché paradossalmente Cagliari non viveva neanche il suo porto. Perché essendoci questa palizzata, se non so se vi ricordate, in cemento e in ferro, quella rete orrenda, noi non vivevamo il porto. Era una città col porto dove il porto sembrava quasi un elemento staccato. Fortunatamente questo primo passaggio è mancato. Santa Gile è il secondo. Calamosco in realtà è stata vista. Io ci andavo da ragazzino perché una mia mia capitava là e quindi la conosco bene, ci ho sempre girato, ci vado a fare asparagi tutt'ora, ci vado a fare il bagno. È bellissimo nuotare a Calamosca, è bellissimo anche camminare. Effettivamente per ora l'equilibrio fra l'autogestione della zona, perché fondamentalmente è autogestita, se pensi alle persone che lo usano con le biciclette, con le mountain bike, soprattutto la parte quella del faro, addirittura vanno costruito... Si sono costruiti percorsi, con i trampolini e tutto, sì. Allora, ci sono certe zone che vanno lasciate più selvaggi, penso proprio alla camminata verso la Sera del Diavolo. Quella zona lì che abbiamo appena citato è già strausata, ci abitavano persone, ci sono i fortini, che i fortini sono stati anche quelli riaperti, ci facciano delle visite guidate, li hanno riaperti, ci si può rientrare, quindi c'è il rischio di vandalizzazione del bene. Bisogna anche lì seguire, bisogna capire che è una ricchezza incredibile, bisogna anche lì però, come per Tuvijetu, capire che è Cagliari. Cioè Calamosca è un pezzo di Cagliari. Adesso è già molto meglio, perché è molto più vissuta. Se ci vai a fare una camminata, soprattutto nel fine settimana, anche a Calamosca, soprattutto in primavera, vedi tantissime persone che camminano. Quindi già questo è un elemento importante, ma da Calamosca tu puoi andare da Sant'Elia fino al Poeto, solo camminando sui percorsi, è stato fatto un primo passaggio, bisogna fare molto di più, bisogna paradossalmente poi affrontare, che quasi si abbia la prova di farlo, il problema delle caserme che esistono lì, e che fondamentalmente diverse sono state dismesse, capire cosa ne vogliamo fare, come vogliamo utilizzarle, e insomma prendere decisioni politiche serie. E sempre su Calamosca, un ultimo approfondimento ti chiedo, e qui sono aree importanti del litorale, molto simili al litorale, penso, dell'Ogliastra, con rocce e quant'altro, che non sono accessibili per motivi di pericolo di frane. E ci sarà un vostro intervento, da questo punto di vista, per restituire ai cagliaritani dei luoghi di bagnazione, che in passato erano molto frequentati, ma che ora nessuno conosce più. Lì l'unico problema rilevante è che serviranno molti soldi, quindi ovviamente lì, cosa può fare il Comune di Cagliari? A parte che mi sembra di ricordare che forse avevamo anche provato a interessarci a questo, il Comune di Cagliari può chiedere che vengano stanziati dei fondi regionali per intervenire per la messa in sicurezza. Di fatto poi le persone ci vanno tutt'ora, perché è inutile che ci nascondiamo. Però le multe si prendono, perché lì passano le vedette della Municipale. Anche nella spiaggetta di Calamose, non so se avete presente la spiaggia principale di Calamose, che poi c'è una spiaggetta più piccolina, anche lì la Municipale arriva anche dal mare. O anche dal Trappato, dove ci sono le grotte, verso la Santeria. Assolutamente. Quindi è ovvio che bisogna intervenire e si può chiedere alla regione di intervenire. Perché? Anche perché sono degli spazi bellissimi. Cioè sono delle calette, non dico, l'Ogliastri mi sembra eccessivo, però sono delle calette veramente bellissime in città che ti permettono anche di vivere il mare come lo preferisci tu ed è un peccato che non possa essere usato completamente. Spossiamoci adesso alla pubblica istruzione. Parlo degli istituti primari e delle medie inferiori. Quali criticità ancora permangono nella nostra città e quali soluzioni andrebbero introdotte? Allora io torno ancora una volta e mi scuso se può sembrare riduttivo perché sembra che voglia quasi fuggire dalla domanda e ritornare al passato. Invece no. Io penso che noi avessimo lavorato molto bene nella prima giunta a Zeda quando c'era l'assessora Pugioni che se ne occupava. Noi abbiamo lavorato molto bene nella pubblica istruzione. La pubblica istruzione è un campo dove non si vede quello che fai perché molto spesso la gente non lo percepisce. In realtà avevamo lavorato ancora una volta molto bene con i dirigenti. Come puoi lavorare? Puoi far capire ai dirigenti che il comune è dietro di loro. L'autonomia scolastica viene preservata perché ovviamente l'autonomia scolastica è preservata però il comune è dietro di te quando quando assicuri che ci siano dei fondi sempre disponibili quando assicuri che alle iniziative della scuola di apertura serale ci può essere l'interesse del comune quando fai in modo che chi fa attività nella scuola quindi i dirigenti scolastici ma tutto il corpo insegnanti abbia manualmente la presenza del sindaco la presenza degli assessori la presenza dei consiglieri che possono andare a fare attività io mi ricordo una volta avevo seguito anche una scuola che faceva attività estiva ed ero andato a giocare a pallanuoto con i ragazzi pallanuoto avevamo montato una piscina all'aperto mi hanno fatto il bagno con loro avevo passato tutta la mattina assieme sono stupiragini ma non sono stupiragini perché ancora una volta i processi devono essere seguiti devi mostrare la presenza fisica devi mettere fondi devi mettere fondi a disposizione devi capire che il comune ha come obiettivo principale la pubblica istituzione e la crescita delle giovani generazioni ma secondo te cosa quali sono state le criticità che sono emersi nel corso di questa ultima amministrazione parliamo anche di buone pratiche hanno chiuso diverse scuole così senza pensiamo a tutto il presso di via Stoccolma è stato chiuso hanno avviato lavori di ristrutturazione che non sono stati poi portati a compimento è stato fatto in maniera lentissima poi addirittura per un periodo si pensava di fare anche i lavori per fare un parcheggio in realtà da 30 macchine presumo nella scuola nella scuola materna che c'è a Monturbino che era in realtà fondi già messi da noi hanno fatto hanno completamente abbandonato la fine lavori della scuola aperto Mereo io parlo di cose fisiche perché sono quelle più visibili poi se vi capita di parlare anche con i dirigenti vi diranno che comunque non sono stati seguiti minimamente dalla pubblica amministrazione quindi è doppio il passaggio devi fare cose cioè devi mettere a posto la scuola affinché abbiano meno problemi fisici e poi devi seguire i processi in realtà semplicemente portati avanti a livello istruttivo noi avevamo fatto un ottimo lavoro col plesso di Pirri lì per tante ragioni è stato portato avanti il concetto di scuola senza zaino che in realtà la scuola senza zaino è solo l'ultimo dei tasselli però era tutto un lavoro fatto su su questo plesso per cui è stato fatto un investimento importante abbiamo lavorato benissimo anche sul plesso diciamo Randaccio quindi via Venezia eravamo intervenuti anche per evitare avevamo fatto l'asilo modello regimile a Sant'Elia ancora una volta devi seguire i processi devi accompagnare i dirigenti che in realtà vogliono fare perché dirigenti maestri vogliono fare maestri e professori vogliono fare attività seguirli di cosa ti serve il comune è con te e poi sostenerli e non abbandonarli certo chiudo con una domanda più che altro politica come ti spieghi la partecipazione a questa campagna elettorale di tanti indipendenti di sinistra penso per esempio a Claudia Ortu con Cagliari Popolare o anche Emanuele Accorda con Alternativa ma in realtà nelle competizioni politiche c'è spazio per tutti loro esprimono delle posizioni secondo loro più a sinistra di noi ma tutto sommato credo che anche a destra ci sia la stessa situazione perché la candidatura di Giuseppe Farris e di Alessandra Zeda è un pochettino speculare devo dire a me non piace parlare degli altri io lo vedo sempre come un elemento positivo quando c'è competizione elettorale perché la democrazia esprime un'opinione io credo che noi possiamo proporre un progetto di una Cagliari migliore del loro ma in generale un progetto positivo e propositivo e sia come candidato sindaco sia come liste che lo supportano anche per la struttura io penso al mio partito il Partito Democratico che è un partito che ha una struttura che esiste sul territorio a mio avviso noi possiamo essere capaci di offrire una migliore risposta alle esigenze politiche di Cagliari che decisamente in questi cinque anni purtroppo dico purtroppo perché da cittadino vorrei dire il contrario non mi sembra che abbia fatto nessun passo avanti ma anzi molti passi indietro perfetto noi chiudiamo qui per oggi grazie Filippo per essere stato con noi grazie a voi grazie Michele De Montis come sempre grazie a Roberto Dessi in regia noi ci vediamo al prossimo podcast e a presto ciao a tutti e a tutte grazie a tutti Grazie a tutti.